Zlatan Ibrahimovic al coronavirus. Dopo la positività del compagno di squadra Leo Duarte, il Milan ha eseguito un giro di tamponi in vista della partita contro il Bodo Glimt e questa volta lo svedese è risultato positivo. Zlatan salterà quindi la gara di Europa League di stasera contro i norvegesi, valida per il terzo turno preliminare l'eventuale playoff di Europa League e le partite di campionato con Crotone e Spezia, in programma rispettivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre. Il club Meneghino ha fatto sapere tramite comunicato ufficiale che il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio e che tutti gli altri tamponi effettuati al gruppo squadra sono risultati negativi. Sembra essere calato il silenzio sul futuro di Calidu Coulibaly. Il difensore senegalese domenica era al suo posto al centro della difesa del Napoli, ma la sua permanenza al San Paolo non è ancora certa. Aurelio De Laurenti non ha nessuna intenzione di fare sconti su un valore già ritoccato al ribasso rispetto al 2019. Cederlo significherebbe concedere ossigeno al bilancio e tagliare 12 milioni lordi dal monte in gaggi, ma se dovesse rimanere non verrebbe assolutamente visto come un problema, anzi. Il Paris Saint Germain è così avvisato? Per avere Coulibaly servono almeno 70 milioni di euro. Dalla Spagna arrivano nuove voci di mercato riguardanti l'attaccante della Roma Edin Dzeko. Il bosniaco era recentemente finito nel mirino della Juventus che alla fine aveva però virato su Morata. Ora è l'Atletico Madrid a farsi avanti per il 34enne giallo-rosso. Secondo quanto riportato dal direttore di ASTV Javier Matajanas, i Colcioneros, viste le difficoltà per arrivare a Luis Suarez, starebbero considerando di prendere Dzeko come piano B. Per ora comunque il futuro dell'attaccante è ancora incerto. Grande colpo di mercato per il Monza. Adriano Gagliani ha infatti convinto Kevin Prince-Boatenga a scendere in Serie B e trasferirsi in Brianza. Il centrocampista ganese era tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Besiktas. Boateng era fuori dal progetto di Iachini e ha scelto di andare a giocare con Christian Brocchi con il quale ha già avuto occasione di lavorare nel corso della sua ultima esperienza in rosso-nero dove ha collezionato complessivamente 114 presenze e 18 reti. Per il Monza di Berlusconi un altro segnale sul desiderio di centrare subito la promozione in Serie A.